La partita a calcetto con gli amici. C'è chi gioca, c'è chi guarda. Tanti modi di vivere oggi Marina di Pisa. Camminare placidamente, perdendosi nella miriade di colori multietnici del mercatino. Tutto si confonde in nuovi modi di vedere, in nuovi modi di essere, attraverso oggetti della memoria della nostra esistenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È ormai il crepuscolo. Il cielo, l'aria si tingono di giallo, di arancio, poi di rosso, con toni sempre più struggenti. Adesso è il momento della giornata che ci conduce dolcemente al rituale dell'aperitivo. Lumi di spiaggia. Tutto si tinge di giallo intenso. È la magia del tramonto. E' già l'ora che volge il disio ai navicanti e intenerisce il coro, lo dica andetto ai dolci amici addio. E che lo nuovo peregrin d'amore punge, se ode squilla di lontano, che paia il giorno pianger che si muove. Oltre Marina, un documentario di Fabio Rossitto in DVD e nella fantastica versione in Blu-ray disc.